4 vittorie costecutive in campionato, la Lazio sembra davvero aver trovato la continuità e adesso è terza in classifica. I bianco celesti hanno anche con 18 gol segnati il miglior attacco casalingo. Il Napoli e le cessioni dei big, ma anche le idee della Roma e della Fiorentina. E il sogno nerazzurro, neppure troppo irrealizzabile, di De Paul. Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Il punto sul campionato, ma anche sul mercato, con gennaio che si avvicina. Cercheremo di capire quali saranno le mostre delle big. Lorenzo Di Benedetto, buonasera. Ciao Lorenzo e buonasera a tutti. Saluto anche il direttore di tuttoci.com, Ivan Cardia. Buonasera, buonasera. Parliamo della Lazio, dunque, all'inizio del nostro TMV News. Una Lazio che sembra aver trovato la continuità. Quattro vittorie consecutive in campionato dopo un inizio un po' faticoso, un inizio che faceva pensare ad un campionato più difficile. In realtà la Lazio gioca bene, questo l'abbiamo sottolineato più volte. Nel corso di queste ultime partite si è fatta apprezzare anche per una serie di geometrie davvero eccezionali, con i loro giocatori più rappresentativi a partire da Luis Alberto. Sì esatto, è proprio Luis Alberto a trascinare questa squadra insieme chiaramente ai gol di Immobile e Correa. È una Lazio che ha cambiato faccia. Dispiace che non sia riuscito a farlo in entrambe le competizioni, perché di fatto ha accantonato l'Europa League, è praticamente fuori dalla competizione, però dall'altra parte i sorrisi arrivano dal campionato. Quattro vittorie consecutive, dicevi giustamente Lorenzo, due delle quali in trasferta, una a Milano contro il Milan, una a Firenze contro la Fiorentina. Quindi ci fa capire che la Lazio sta alzando proprio il livello. E battere il Lecce non è la cosa più semplice, ce lo dimostra anche il fatto che uno dei due pareggi della Juventus in questo campionato sia arrivato proprio contro i Salentini. Ha fatto discutere in lungo e in largo il gol annullato alla Padula sulla respinta di Stracoscia. Il regolamento dice questo, quindi sicuramente ci sarebbe da rivedere il regolamento, ma la Lazio ci può fare ben poco. Però è una squadra che ha trovato la solidità, sta trovando la continuità. Simone Inzaghi era partito male, addirittura si parlava di ciclo finito, si parlava di ipotesi di panchina in bilico per Simone Inzaghi. Ha risposto sul campo, quattro vittorie consecutive. E a questo punto la Lazio è prima tra le normali, perché Inter e Juventus faranno un campionato a sé. Primo per quanto riguarda gli assist, invece Luis Alberto è il nostro campionato. Otto gli assist da parte dello spagnolo, è il secondo in Europa in questa speciale classifica, però non è stato convocato dalla Spagna. Il CT Moreno sembra essersi dimenticato di lui. Beh, più che dimenticato, lo vediamo da un decennio. La Spagna ha una scelta praticamente illimitata, c'era giocatori veramente fantastici da poter convocare. Luis Alberto comunque è reduce da un'annata come quella scorsa, non di altissimo livello. Poi gli assist a livello numerico li ha sempre fatti, anche perché la Lazio non ha grandissima alternativa, quindi gioca più o meno sempre gli stessi. Però al di là degli assist, è un giocatore che lascia il segno, al di là di questa qualità importante. È tornato a far bene, però poi, se il discorso è relativo alla Spagna, mettiamoci nei panni del CT Moreno, che comunque può scegliere tra giocatori abituati alla Champions League e giocatori che brillano, sì, ma in un campionato secondario, come in questo momento è la Serie A a livello europeo, non possiamo far finta di niente. Sulla Lazio, Luis Alberto è un giocatore che è stato rivalorizzato dopo un periodo così così. Mi sembra che anche Milinkovic-Savic si stia mettendo un po' in quella scia. La doppietta di Correa è un'altra bella notizia, perché dimostra che comunque non è soltanto dipendenza da Ciro Immobile, per quanto poi la percentuale del bomber campano sia altissima rispetto ai gol della squadra. È una Lazio che va anche in merito di Luis Alberto per la Spagna. Le auguriamo, ci sarà tempo e spazio. La concorrenza oggettivamente è complicatissima da battere. Immobile, visto che lo citava Ivan Cardia, è arrivato a quota 14 gol in campionato, continua a segnare a raffica e sembra aver raggiunto a questo punto la piena maturità. Sì, è un Immobile che segna da tanto la Lazio, insomma ha raggiunto record importanti con la maglia bianco-celeste. La stagione scorsa era stata un po' in chiaro-scuro e se pensiamo che la Lazio comunque è stata in corsa per la Champions League fino a poche giornate dalla fine del campionato, senza il miglior Immobile, senza il miglior Luis Alberto, senza il miglior Milinkovic, Savic, quest'anno li ha ritrovati tutti e tre e quindi è una seria candidata, vista anche il campionato a Zoppino fino a questo momento del Napoli, ad andare a qualificarsi per la Champions League. Parlando di Immobile, è il terminale offensivo perfetto per questa squadra e non lo scopriamo certo adesso. Ci fa capire tanto anche la sua difficoltà a segnare il nazionale, ci fa capire quanto sia importante lui per la Lazio, ma la Lazio per lui, perché comunque Simone Inzaghi costruisce il suo gioco in modo da avere un finalizzatore come Ciro Immobile e metterlo in condizione di fare più gol possibile. Poi è arrivato davanti alla porta o su calcio di rigore come è successo nell'ultima giornata, è praticamente infallibile Ciro Immobile. Quindi complimenti a lui, complimenti a Simone Inzaghi che lo fa girare al meglio e speriamo che in chiave nazionale possa essere questo Ciro Immobile anche per Roberto Mancini. Su Immobile sentiamo anche il parere di un tecnico, in questo caso ex bianco celeste come Dele Rossi che è intervenuto a TMV Radio. Nello specifico si parla anche di un confronto tra Immobile e altri due grandi ex cannonieri bianco celesti come Signori e Giordano. Stiamo parlando della storia del calcio, non solo della Lazio, ma della storia del calcio italiano, quanto parli di Signori, quanto parli con tutto rispetto per Rocchi, quanto parli di Giordano. Per di più sono tutti giocatori tecnici, ma soprattutto giocatori agili, cioè giocatori non nel centroavanti strutturato, non so, tipo Riva, tipo Milic, tipo altri centravanti, però tutta gente che aveva gol nelle sue corde. Sicuramente è sempre antipatico fare degli accostamenti perché pur simili certi giocatori non possono essere mai uguali. Sicuramente Immobile è un giocatore intelligente, soprattutto c'ha fiuto, soprattutto si gioca e per questo rende più nella Lazio magari che non in altri contesti. Si sente molto importante, soprattutto sanno come servirlo o come farsi trovare lui nella Lazio e questo che penso che sia fondamentale per un attaccante che si possa esprimere. Basta vedere, non so, quello che succede al Milan con Pionte che non lo stuscia mai e pure l'anno scorso ha fatto 20 gol. Magari in un altro contesto forse paradossalmente potrebbe esaltarsi di più. Però stiamo parlando di tre grandi, io sono contento perché è un giocatore che mi piace molto anche perché io un giocatore lo valuto sì in base ai gol ma in base all'utilità della squadra mi sembra uno che si spende molto dalla squadra e i compagni. Questo è un giocatore importante. Per chiudere il capitolo sulla Lazio, quando scende in campo con tutti i big può davvero competere con chiunque come sostiene anche Domenico Caso che è intervenuto a tuttomercatoguai.com in un'intervista ha sottolineato proprio questo aspetto. Probabilmente poi non c'è lo stesso valore tra gli undici che vanno in campo e la panchina, i giocatori che poi vengono utilizzati come rincalzi. Sicuramente, più che probabilmente, lo diciamo anche prima, le alternative sono un po' il limite della Rosa, della Lazio anche perché l'anno scorso Correa era stato utilizzato come arma in più. Quest'anno sta giocando molto di più da titolare e questa è una buona notizia per lui perché sta facendo bene, però manca magari quel giocatore che può entrare a gara in corso se gli schieri tutti e quattro questi quattro tenori di cui ha parlato anche Lorenzo prima è ovvio che poi non è più armi per cambiare la partita. Detto questo, sono d'accordo sul discorso Champions League magari augurandosi augurandosi per la Lazio ovviamente che non ci siano grossi problemi fisici considerato che il Milano è lontanissimo che il Napoli sta facendo male magari risolverà dei problemi però comunque non è certo di un piazzamento al terzo o al quarto posto che l'Atalanta è una squadra allo stesso livello della Lazio secondo me i biancocesti se la possono concretamente giocare per un piazzamento lì a patto appunto di non avere grosse defezioni nel corso della stagione. Adesso voltiamo pagina ne parlavamo anche ieri nel corso del TMV News e ci chiedevamo se la Juventus potrà davvero essere in questo campionato in questa stagione spettacolare in stile Sarri. Difficile dirlo troppo difficile perché non possiamo sapere quale sarà l'evoluzione e cosa c'è nella testa di Maurizio Sarri. Credo che cambiare per dover per forza migliorare il modo di giocare e magari rimetterci dal punto di vista dei risultati non sia nello stile Juventus. Può essere nello stile di Sarri ma non nello stile Juventus e Sarri quest'anno non si può assolutamente permettere di non vincere perché ne abbiamo parlato nel corso di tutta l'estate raccogliere un'eredità come quella lasciata da Allegri è complicatissimo. Già lo era per Allegri quando subentrò ad Antonio Conte figuriamoci adesso che comunque la Juventus vince Scudetti da otto campionati consecutivi quindi la cosa fondamentale per Sarri sarà vincere. Sta vincendo non sta giocando benissimo però alla fine sono i risultati a parlare la Juventus è prima in classifica già agli ottavi di Champions League e quindi non credo che ci sia la voglia di un cambiamento immediato magari dalla prossima stagione dopo il mercato con tutti i giocatori che conosceranno Sarri e al 100% allora sì. Di questo ed altro abbiamo parlato anche con Aurelio Capaldi collega della Rai sentiamo cosa ci ha detto. Lui dice che ci sono tanti margini di miglioramento e credo che sia vero però al tempo stesso ha fatto capire anche che le caratteristiche del suo Napoli non verranno trasferite in questa Juventus perché sono diverse le caratteristiche dei giocatori. Credo che si vedrà una Juventus in evoluzione però diversa comunque da quel Napoli. E il caso Ronaldo come verrà ricomposto a tuo parere? Ma io credo che in questo la Juventus sia molto brava nel senso che la società a livello di diplomazia saprà toccare le corde giuste certo insomma lo strappo c'è stato però al tempo stesso credo che convenga un po' a tutte le parti ricomporre la cosa. Sarri del resto ha fatto una scelta chiara c'era comunque la spiegazione relativa ai problemi fisici di Ronaldo però era molto difficile fare quella sostituzione perché era la seconda consecutiva perché comunque Ronaldo dopo 55 minuti di solito non esce era la scelta più difficile però Sarri l'ha fatta e ha avuto coraggio questo bisogna riconoscerlo. La crisi del Napoli invece che idea ti sei fatto su questo caos che si è venuto a creare in quest'ultima settimana e soprattutto gli obiettivi a questo punto quali possono essere? Obiettivo numero uno deve essere ricomporre lo strappo tra società e giocatori non credo sinceramente che il problema sia Ancelotti non soltanto perché la sua carriera ci dice che è un tecnico vincente o che comunque sa gestire certe situazioni io credo che un po' le situazioni contrattuali un po' le incomprensioni abbiano portato fino a questo punto però il Napoli prima di tutto deve ritrovare la serenità e poi vincere una serie di partite consecutive e alla fine quella è la medicina migliore. Per parlare del Napoli ripartiamo dalla pagina di tutto mercato web un'intervista che abbiamo realizzato con un grande ex partenopeo come Vincenzo Montefusco che dice Ancelotti un altro sarebbe già stato cambiato insomma se non si chiamasse Ancelotti l'allenatore sarebbe già un altro questo dice Montefusco Si ma insomma se non avesse lo stipendio di Ancelotti perché mi sembra quello cioè al di là del nome Lo scoglio è quello Ma si al di là del rispetto nei confronti del tecnico è oggettivo che De Laurenti abbia investito molto per portare Carlo Ancelotti a Napoli e in questo momento non ha l'interesse la voglia di ricambiare e di spendere altri soldi anche perché poi i problemi non derivano direttamente da Ancelotti comunque la rottura principale è stata però era lecito attendersi di più da Ancelotti visto il suo curriculum vista la sua storia ma per carità ma anche l'anno scorso se vogliamo dirlo insomma è un'avventura che non sta andando benissimo quella di Ancelotti al Napoli molto dipenderà dal percorso europeo anche perché è naturale valutare un allenatore come Ancelotti sul percorso europeo non è un allenatore che soprattutto in Serie A abbia mai vinto tanto come titoli nazionali mentre a livello continentale è uno che ha fatto la differenza quindi sarà decisivo e per quello almeno fino al 10 dicembre può stare tranquillo quando si gioca il ritorno col Genk che insomma chiuderà la fase di gironi della Champions League quindi a tuo parere non saranno decisive le prossime due partite ma si aspetterà anche quella con il Genk no io penso lo valuterà sì sul percorso europeo poi se il Napoli dovesse prendere delle imbarcate clamorose ovviamente tutto può cambiare ma non penso che saranno decisive le prossime due partite anche perché poi c'è da vedere chi può essere il sostituto insomma si è fatto il nome di Spalletti di Gattuso ma insomma non è così facile trovare uno da prendere al posto di Ancelotti restiamo ancora sul Napoli e sentiamo le valutazioni di mercato da parte del direttore di TMV Radio Riccolo Cercanini che poi spazia anche su altri temi sempre legati al mercato la situazione in casa Napoli è una situazione in evoluzione però per quanto riguarda i rinnovi cominciamo con le buone notizie per il Napoli il primo rinnovo sarà quello di Piotr Zieninski e poi arriveranno anche quelli di Maximovic e Milik probabilmente forse non la Natale però bisognerà aspettare ancora un mesetto entro gennaio tutto questo dovrebbe essere a posto c'è da tenere presente invece anche quello che accadrà con Mertens e Kayekon quello che abbiamo ricavato e quello che io so è che Mertens e Kayekon non si sposteranno a gennaio e rimarranno fino a giugno poi è chiaro se non ci sarà prima il rinnovo cosa in questo momento molto molto complicata le strade si separeranno e c'è da valutare anche la posizione di Allan perché Allan è comunque un giocatore importante e quando ci fu l'interessamento del Paris Saint Germain quella fu sicuramente un'occasione di possibile partenza poi è rimasto ma probabilmente a quelle cifre lì credo che non andrà via ma a giugno io credo che cambierà tanto il Napoli in prospettiva e ovviamente in questo c'è da tenere presente anche la figura di Carlo Ancelotti che secondo me qualsiasi cosa magari potrà succedere ancora è difficile prevedere ma le sensazioni portano al fatto che con ogni probabilità l'anno prossimo ci sarà un nuovo allenatore e qui nelle prossime puntate proprio del TMV News cerchiamo di darvi l'identikit di quello che potrebbe essere diciamo il profilo da prendere in considerazione per il Napoli della stagione 2020-2021 detto questo che comunque insomma non è poco andiamo poi su un po' di pillole di mercato perché comunque sia l'Udinese potrebbe nonostante il rinnovo fino al 2024 cedere Rodrigo De Pol non credo che lo possa cedere con la formula del prestito con diritto di riscatto ovviamente soprattutto a metà stagione però magari un prestito con obbligo a giugno sicuramente va tenuto presente e in corsa per De Pol ci sono tre squadre c'è sempre il Milan c'è l'Inter e c'è anche la Fiorentina che sta cercando una mezzala parentesi viola Fiorentina oltre alla mezzala che potrebbe essere anche Berge sul quale però il Napoli mi sembra più avanti rispetto a tutte le altre sta cercando di vedere qualche altro profilo attenzione anche all'idea Strottman che è in uscita dal Marsiglia tornando a De Pol invece quello che c'è da aggiungere è che appunto ci sono queste tre squadre e che di fronte però sempre a un'offerta 35 milioni di euro può partire sotto assolutamente no Florenzi non sta trovando tanto spazio in questo momento nella Roma ma il fatto che non trovi spazio nella Roma non significa che la Roma lo voglia cedere per me è molto complicato e comunque è un giocatore che vale tanti soldi a gennaio difficilmente si può spostare e poi io direi di chiudere a questo proposito anche con quello che naturalmente ci aspettiamo da gennaio dalla Juventus perché a gennaio sicuramente Mandzukic Manchester United sempre in vantaggio e da valutare invece Emre Can e Quadrado ormai addirittura d'arrivo rinnovo fino al 2022 grazie dunque al direttore di TMV Radio Nicolò Ceccarini Lorenzo che cosa ti ha colpito di tutta la serie di notizie di mercato di Nicolò Ceccarini si parla molto anche di Florenzi naturalmente perché fa specie come questo giocatore non riesca a trovare posto tra i titolari nella Roma nelle ultime partite quindi inevitabilmente si parla anche di una sua possibile partenza sì perché lo abbiamo detto anche in questo studio del TMV News il problema di Florenzi è il saper giocare ovunque ma non eccellere in nessun ruolo non è uno specialista in nessun ruolo in un momento esatto in un momento molto delicato della stagione della Roma dove Paolo Fonseca si è affidato a sempre gli stessi giocatori praticamente per uscire dalla crisi legata agli infortuni non ha trovato spazio Alessandro Florenzi e chiaramente si parla di mercato sono tante le squadre che potrebbero aver bisogno di un jolly come lui sicuramente anche Florenzi si sta guardando intorno ma quando si parla di un romano romanista che viene via dalla Roma bisogna sempre andarci con i piedi di piombo perché in tutta la carriera abbiamo parlato tantissimo abbiamo sentito letto scritto di De Rossi a un passo dall'addio alla Roma poi alla fine non se n'è mai andato se non in questa stagione quindi bisogna sempre anche fare i conti con la scelta di cuore di Alessandro Florenzi e chissà che magari non possa andare all'estero proprio per questo motivo se deciderà di lasciare la Roma Ivan diceva Nicolò Ciccarini a proposito di De Paul già a gennaio potrebbe essere lasciato partire dall'Udinese tre squadre Milan Inter e Fiorentina cioè quelle che lo cercano già da tempo lo hanno messo nel mirino sicuramente Nicolò è molto più esperto in termini di mercato qualche dubbio sul fatto che l'Udinese possa privarsi in questo momento di De Paul ce l'ho non l'hanno voluto fare in estate tu dici che dipende anche dalla posizione di classifica insomma è vero che non sono proprio a rischio in questa fase i friulani però comunque dovranno lottare per salvarsi secondo me serviranno motivazioni economiche molto forti per convincere Pozzo a privarsi dall'Argentino Gotti ti dà delle sicurezze per quanto riguarda l'Udinese visto che comunque nella prossima partita rimarrà lui alla guida dei friulani ma le ha date a Marino che sinceramente ha detto rimarrà con la Sampdoria però da quel che si è capito lui lo vorrebbe confermare in via definitiva magari c'è anche qualche dubbio da parte dell'ex vice diciamo perché comunque non è semplice prendersi una responsabilità del genere dovrà non è che abbia svoltato però insomma qualcosina ha fatto vedere bisogna anche vedere anche lì chi c'è libero è sempre uno dei dubbi eh sì tutti gli allenatori che sono stati contattati dall'Udinese evidentemente non hanno convinto la dirigenza su Gotti ci parlerà nella prossima puntata grazie grazie a te e grazie Ivan Cardia grazie a tutti voi per averci seguito buona serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti